Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan e ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare l'inizio della nostra collaborazione, tornando ovviamente a parlare anche di stampanti 3D, con la Lotmax e vi presento la loro ultima stampante a filamento in plastica FDM, Lotmax SC10 Shark V2. Una stampante che veramente ha qualsiasi cosa di cui abbiate bisogno, perché parliamo di una stampante come vedete qui dietro col piatto, col piano di lavoro che si rimuove, col doppio estrusore, quindi potete lavorare direttamente con due bobine, con un piano di lavoro discretamente grande, comunque in linea con tante altre, anche tipo la Genius che avevamo prima come dimensione del piatto, ma soprattutto con il laser engraver che ci ha permesso di fare queste cose che vedete qua, che sono veramente di uno spettacolo assurdo. Abbiamo tirato fuori il logo del canale di mia moglie, su una tavolettina leggerissima di compensato, spessa a pochi millimetri, e qui davanti mi ha voluto fare una sorpresa in regalo, ha fatto Doc Holliday con la sua classica frase, sono il tuo colberry, e come vedete insomma la qualità è discretamente alta, e per i lavori anche di engraving lavora veramente molto molto bene. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. L'SC10 Shark V2, di proprietà e di fattura ovviamente della Lotmax, che tra l'altro colgo l'occasione per ringraziare di cuore, perché ci hanno offerto questo modello per la recensione, e altri che arriveranno in futuro, quindi è una collaborazione, io spero duratura, insomma ci impegneremo a fondo perché è una cosa che ci interessa particolarmente, ed è una macchina che già vi dico la verità, prima di andare sull'artillery, io e mia moglie avevamo addocchiato quando la prima Shark venne presentata su Facebook, con un modello che poi fanno, beh non male tutti, un modello di crowfunding, quindi direttamente su Kickstarter, perché era una macchina che era di facile utilizzo, mettiamola così, ed è una macchina che non è per niente complicata, e poi una cosa che io e mia moglie adoriamo, è il tipo di piatto che ovviamente non è un ultrabed, ma il tipo di piatto che si può rimuovere, dietro ovviamente è magnetico per attaccarlo sul piatto, e quando levate il piano di lavoro per staccare un oggetto andate semplicemente a piegarlo, fino a che l'oggetto non si stacca via, quindi non c'è nemmeno bisogno di andare con spatoline e cose del genere, devo dire che ne avevo sentito parlare un po' male, però una presa assurda, va sicuro che quando ci fate un pezzo non si stacca, non c'è versi, cioè fa veramente impressione, e questo qui invece vi consentirà di staccarlo molto più facilmente appunto, piegandolo direttamente fino a che non staccherete il pezzo, il piano di lavoro sono 23x23 per in altezza sull'asse Z26, quindi non è nemmeno immenso, diciamo siamo a livelli della Hornet che abbiamo qua sotto, però comunque come piano di lavoro, ragazzi è il classico piano da stampante 3D desktop, che ci potete fare qualsiasi cosa, poi se ci volete fare, e dopo vi facciamo vedere, dei pezzi più grandi, magari con qualche programma di modellazione 3D, tagliate il pezzo, e ce lo fate entrare, come vedete ha un doppio strusore, qua su in cima, e quindi la possibilità di mettere, di lavorare con due bobine, quindi fare anche stampe in doppio colore, che ne so, uno può fare una stampa con un colore giallo e rosso, oppure bianco e azzurro, e cose del genere, e con questa lo potete assolutamente fare, l'unica cosa appunto negativo, magari si è sbagliato noi, nelle impostazioni o qualcosa, però l'unica forse parte leggermente negativa, è che noi anche in tutte e due i sensori, vedete ci sono i sensori, quelli del filamento, anche se voi lavorate con una sola bobina, e quindi con un solo colore, e non fate il doppio strusore, dovete lasciare un pezzettino di plastica, che passi dentro il secondo sensore, perché se no vi da errore e non parte, cioè sembra quasi come se gli mancasse, la seconda estrusione, e non andasse avanti nella stampa, quindi comunque voi prendete un pezzo di plastica, un filamento, lo tagliate anche lungo così, e lo lasciate direttamente dentro il sensore, così la macchina riconosce che c'è anche il secondo, e vi consente di fare la stampa. Ora vi dico un pochino le caratteristiche tecniche, e nel frattempo vedete un pochino a video, dei vari montaggi che abbiamo fatto, per farvi vedere anche un po' come funziona. Ad esempio il layer thickness, o per meglio dire lo spessore dei layer, varia da 0.1 a 0.4, e quindi comunque 0.1 si riescano ad avere anche, dei buoni dettagli, e soprattutto una migliore precisione. Infatti la printing accuracy si avvicina a 0.1. La velocità di stampa può arrivare ad un massimale, un tetto di 200 mm per secondo, mentre quella normale dai 45 fino ai 90, quindi comunque come vedete, come massimali e punte di media, è in linea con tante altre stampanti. Il diametro dell'estrusore è un classico, ora a parte qui vedete che eccolo qua su, e qua sotto invece abbiamo montato il laser dell'engraver. Comunque lo spessore, il diametro, è sempre uno 0.4, però potete tranquillamente cambiarlo, e metterci anche magari uno 0.3, uno 0.2, se volete fare lavori più accurati e precisi. La temperatura massima dell'estrusore, può arrivare fino a un massimale di 260 gradi, mentre invece il letto, il piano di lavoro fino a 100 gradi. Una figata disumana, è che tante altre stampanti, hanno il display direttamente attaccato alla scocca, e non sempre, magari alle volte ad esempio la Hornet nostra, non sempre il touchscreen. Questo oltre a essere touchscreen, guardate bellino, è anche a telecomandino, quindi lo potete tranquillamente portarvelo dietro, è più comodo, e non è attaccato direttamente alla scocca della macchina, ed è secondo me una figata unica, mi piace da morire. Infatti, accendendolo, guardate bellino, c'è il logo, l'Hotmax, la stampante, la Shark, ed è veramente carino, e poi sembra di avere un telecomando in mano, qualcosa del genere, secondo me è anche, consentitevelo, oltre a essere molto utile, è anche figo da vedere, mi piace come idea, poi tutto bello colorato, tutto quanto, è fatto veramente veramente bene. Di solito nelle stampanti, le arti devi sempre un pochino strabuzzare gli occhi, qui il display, la larghezza è di 4.3 pollici, e quindi comunque è anche abbastanza grande, si vede bene, non ti ci devi stare a street sample occhi ad avvicinarti, si vede veramente bene. Tipi di slicer, quindi di software per lavorare le stampe 3D, e mettere le memorie della macchina, o il loro slicer di proprietà della Lotmax, cura, ripetir host, o se no anche simplify 3D. I file supportati sono AMF, OBJ, oppure il classico STL, quindi comunque li legge. Materiali di stampa, classico, PLA, ABS, PTG, vabbè, quello di senso, sono sempre gli stessi, quindi non cambiano. Quando è arrivata la scatola, e ci scusiamo se non abbiamo fatto un unboxing, ma abbiamo fatto un trasloco, quindi siamo pieni di scatole, c'è passato un po' i rosini di testa, la macchina è arrivata preassemblata al 95%, un classico, c'è soltanto da montare, ovviamente vabbè, le bobine, per il dual extrusor, e poi c'è da montare l'asse, da fissare l'asse Z, sulla scocca, sulla parte bassa della macchina. Era piena zeppa di attrezzi, di viti, di chiavi, c'era tutto quello di cui avevate bisogno, e tra l'altro era organizzato, e diviso a livello di scatola, perfetto, cioè ti sapevi già, non avendo mai visto la macchina, al momento dell'unboxing di aprire il pacco, sapevi già dove andare a mettere le mani, e quindi ne denota anche un ordine, e una precisione da parte di Lothmax, non indifferente. Poi, tra l'altro, se uno non vuole fare errori, o anche vuole vedere semplicemente, come funziona la macchina, tutte quante le funzionalità, c'è all'interno il libretto di istruzioni, tra l'altro molto esaustivo, e scritto, e spiegato veramente bene. Vi fa vedere, come montare il doppio estrusore, quindi sul manualetto, ma soprattutto, fate molta attenzione, perché c'è da smontare, tutto quanto il gruppo, spero che lo vediate, non sono davanti a rompere le scatole, dovete montare il laser engraver, come lo vedete montato qui. Vedete, c'è anche una scatoletta, ed è tutto attaccato. Questa scatoletta qui, va montata con la parte, dove c'è la figura qui gialla, dalla parte di sopra, quindi deve stare sempre sopra, ed è molto importante, perché rischiate di bruciare la macchina. Ah, è un laser, ci sono anche gli occhialini, che vi danno insieme alla confezione, che sono praticamente questi qua, con cui vedete tutto rosso, sembra di essere ciclope degli X-Men, e quando lavorate con laser engraver, non ci mettete la mano, perché vi ustiona, non lo toccate, ma soprattutto, ragazzi, vi acceca, quindi avvicinatevi sempre, vediamo un po' come sta andando, se sta lavorando bene, andate sempre con gli occhialini, sempre, perché è un attimo accecarsi, questo è molto, molto, molto più pericoloso, ad esempio, della resina di una stampante LCD. Ha un massimo di stampa, sempre parlando di dimensione dell'engraver, di 23x23 mm quadri. Nella chiavetta, tra l'altro, che vi danno in dotazione, all'interno troverete tutto quello di cui avete bisogno. Lo slicer, ovviamente, per lavorare con la stampante in 3D, ma anche il software, che è ovviamente un altro, per lavorare direttamente con l'engraver, con laser. Legge come formati per le immagini, BMP, PNG, JPEG, e JPEG, quindi comunque li legge tutti. Le modalità di engraving sono tre, che sono bitmap, vector e grey. Le dimensioni pixel, passano da 0.05 a 0.4. La potenza del laser, si aggira intorno ai 1600 MW. Se volete sapere, ovviamente vi ho dato un pochino delle informazioni veloci, ma se volete andare molto più nel dettaglio, andate direttamente sul sito della Lotmax, che vi lascio come primo link in descrizione, e che vi spiega perfettamente tutto. Comunque in conclusione, l'SC10 Shark V2, è una bellissima macchina, user friendly, ovviamente c'ha anche dei lati oscuri, ma come qualsiasi cosa sulla faccia della terra. Due cose, come vi ho detto, che non ci sono piaciute, la prima magari abbiamo sbagliato, bisogna vedere un po' meglio, però dopo tante prove non funzionava, che se non mettete un pezzettino di filamento, nel sensore del secondo estrusore, lui non stampa. Anche se volete fare con un singolo colore, con una singola bobina non stampa. La seconda cosa, per attaccare questi qua, ci sono state mandate delle viti, che era da impazzire, piccoline, piccoline, piccoline da mettere, con la brugola, o comunque con un cacciavite molto piccolo, con la punta molto fine, talmente piccole, che una volta messe, uno le stringe un po' di più, perché non volete che mentre lavori, balli il pezzo qui che regge la bobina, quindi lo vai a stringere, magari poi dopo ti prendi, fai, no, ho sbagliato, lo volevo mettere un po' più avanti, un po' più indietro, può capitare, no, che uno si voglia anche di smontare dei pezzi, anche per trasportarla, portarla al giro, come lo rigiri in antropo, si spanano subito, c'erano talmente piccole come viti, che si sono spanate subito, e non si possono più tirare fuori, quindi, come la vedete, è montata qui, almeno che il pezzo non lo spacchiamo, rimarrà lì attaccato, quindi, per quello, fateci molta molta attenzione, e consiglio spensierato, queste vitine, stringetele poco poco, perché poi, per tirarle fuori, è un dramma, cosa, che gli do il massimo del voto, questa, ha una struttura, bella resistente, ed è tutta quanta in metallo, questo è tutto quanto in metallo, non come la Hornet, che è tutta in plastica, e soprattutto il tirafilo, è in plastica, ragazzi, si spacca, si è già spaccato due volte a noi, nella vecchia, nelle vecchia Chinus, qui no, qui è tutta, tutta, tutta di, fatta di, di metallo, quindi, è bella resistente, è una bella scocca, sa proprio di bella macchina, come un tempo erano le Ender 3, no, queste macchine belle, dei cararmati sono, che ti danno l'idea, anche di un pezzo, che durerà, tanto tanto nel tempo, è silenziosa da morire, è molto precisa, e vi ripeto, quando andate a lavorare, con le engraver, non ve le dimenticate mai, perché la prima volta, mi sono avvicinato, luce spenta, ho fatto a far vedere un po', cioè, ho avuto quel flash davanti, per tipo mezz'ora, che mi continuava, a brillare davanti agli occhi, quindi, molto importante, soprattutto la sicurezza, io ringrazio la Lotmax, per averci offerto questo prodotto, vi lascio il primo link in descrizione, per andare ad acquistarla, costa 500 dollari, può essere acquistato ovunque, anzi, in alcuni paesi, le spese postali sono gratuite, ed è una macchina, che vi fa da engraver, vi fa da stampante, in doppio estrusore, il piano di lavoro, è bello grande, il piatto, mi piace da morire, perché ve l'ho detto, si stacca, ah, e per levelarla, si levela anche bene, c'ha le classiche rotelline, dovete andare a vedere i vari punti, tutto quanto, e settarle uno a uno, ma sono belle grosse, ci si arriva facilmente, e per quello anche regolarle, è veramente una cavolata, regolate un po', quando sentite che il foglio, fa leggermente resistenza, siete a posto, e salvate il punto, e potete salvare anche le impostazioni, quindi anche levelarla, è veramente facile, io ringrazio Lotmax, per il prodotto fornito, primo link in descrizione, dove acquistarla, e ragazzi, veramente, non scherzo, se mi sarebbe piaciuto, avercela, un po' più di tempo fa, sta stampante, che ovviamente non era ancora uscita, magari alla sua sorellina, quella uscita prima, al modello, perché è veramente, molto molto bella, e soprattutto, è una stampante, molto precisa, e guardate ad esempio, cosa ci abbiamo tirato fuori, sia chiaro, va finito, quindi lo vedete, è un work in progress, ci abbiamo, ci ha tirato fuori, non voglio prendere nessun merito, mia moglie, una chitarra, e poi ci abbiamo aggiunto, ovviamente, le corde, che ora non sono ancora tirate, né nulla, perché c'è stato un problema, col ponte, però comunque, i turner, per accordarla, e poi ovviamente, vabbè, mia moglie l'ha personalizzata, tutta nera, ci ha fatto un teschio, qui dietro, ci ha attaccato, quindi teschi di lato, e questo è il lavoro più grande, che noi al momento, abbiamo fatto con quella stampante, ragazzi, e potete vedere tranquillamente, con un po' di voglia, mano d'opera e tutto, cosa ci si può tirare fuori, quindi assolutamente consigliata, ed è una macchina da paura, fatemi sapere cosa ne pensate, o se volete qualche informazione in più, ciao ragazzi, alla prossima!